di sommersi e noi vi abbiamo promesso che li avremmo avuti qui a Super loro ci sono, gli Sfiba benvenuti a Super numero uno della classifica siete tristi, mi vedo piangere, perché? si, siamo tristi, dopo tanti mesi passati in studio proprio al numero uno mannaggia, vabbè terribile, allora noi abbiamo sempre sottoposto i nostri ospiti ad un piccolo esamino andiamo a chiedere in giro alle persone che capitano ai ragazzi cosa ne pensano del personaggio del cantante, vediamo un po' cosa ne pensano su di voi ce lo guardiamo insieme, vai no la mia età cosa che conosco i Lit Fiba? no, non li conosco si, Davi ti piace un Lit Fiba? molto un titolo di un pezzo beh l'album Terremoto è quello che mi piace di più come canzone anche Terremoto Terremoto? si Piero Pielu è un grande ecco ho appena sentito il nuovo album mi piace e niente spero che continui così Lit Fiba? non li conosco molto onestamente non è che ho segua gruppi particolari ma perdono vado a fasi che fase hai adesso? adesso sono in fase classica bello perciò sei su musica barocca la Fiba meglio prima di adesso quando cantavano erano più d'archeggianti adesso un po' troppo con me l'ultimo disco non l'ho sentito gruppo rock italiano chitarra tastiera percussioni no non tastiera due chitarre percussioni questi bacetti qui sono di Robespierre è vero? si adesso però tutto lui che mi questi rivoluzionari che mi ispira molto come cantante cosa gli vorresti dire? che è grande grande allora un grande per il Fiba ma ti è piaciuto questo apportamento con Robespierre? a Ciccicca è un onore è un onore però adesso basta con le parole vogliamo sentirvi cantare e allora il vostro ultimo pezzo è Ritmo 2 Lit Viba vai è Ritmo 2 è Ritmo 2 il mondo io ci sono dentro cercando i tancos tutta la razza tutta la faccia con l'ombra oh no no è mia spantata tikciccac Solicolet è Ritmo 2 inosur Grazie a tutti. 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 Allora noi vogliamo rivedervi qui a Super. Tornerete? Sì. No, non vi vedo. Torneranno qui a Super. Purtroppo però la puntata finisce qui. Allora i saluti da parte nostra, tutti voi da casa. Mi raccomando ci guardiamo insieme Super domenica prossima. Io la faccio, voi la guardate. A domenica prossima. A domenica prossima.